Intanto chiariamo subito, Giabua, Giabua o Giabua? Giabua, ce l'abbiamo fatta, finalmente dopo diversi mesi avevamo indovinato più o meno, a parte gli scherzi, cerchiamo di essere seri adesso, un momentaccio, no? Come se ne esce? No, se ne esce facendo una bella prestazione col Cerignolo, cercando di portare a casa i tre punti che sono fondamentali in questo momento difficile. Voi siete stati una grande sorpresa secondo me, la rivelazione per tante partite, 14, e poi c'è stato questo crollo, perché i numeri dicono questo, perché secondo te? Ma secondo me siamo stati poco fortunati, alcune situazioni, alcune partite, però non penso che ci sia stata fortuna nelle prime partite, perché alcune partite abbiamo fatto molto bene, però ci mancava il risultato, quindi non so, qualche sfiga di troppo. Un po' di sfortuna, un po' di malasorte. Chiaramente il campo è giudice supremo, adesso c'è questa partita di grande rilevanza. Che avversario ti aspetta intanto? Un avversario tutta dietro, che aspetta e riparte, quindi noi dobbiamo fare la solita partita, costruire bene e cercare di perdere meno i palloni, così ripartano di meno, quindi molto attenta in fase difensiva soprattutto, quando abbiamo palla noi. Anche Aloy ha detto la stessa cosa, gli avversari adesso vi aspettano per poi ripartire. Hanno capito più o meno tutti come giocate? Sì, perché la prima partita alla fine era viso aperto, quindi ripartivamo noi sempre. Ora che hanno capito è molto più difficile, però siamo il Pescara, quindi dobbiamo fare sempre di più e cercare di vincere. Come va questa esperienza a Pescara? Come la giudichi? All'inizio chiaramente qualche difficoltà prevedibile, comprensibile, però pian pianino no? No, pian pianino sta andando bene, sono felice di questa esperienza e speriamo di concluderla al meglio. Resteresti a Pescara anche il prossimo anno o ancora presto? No, non lo so ancora, però certamente è un bel ambiente, ci resteremo volentieri.